avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e se non ha i mezzi per retribuirlo poter essere assistito da un difensore d'ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia. Non vi è solo questo perché il diritto al giusto processo ha anche una portata più ampia ma è questo per precisare che il gratuito patrocinio è previsto anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che quindi non è un orpello soltanto nazionale ma sta al centro di ogni ordinamento dei paesi civilizzati. A questo punto vorrei fare un accenno alle linee guida operative che si stanno finalizzando nell'ambito di un progetto che è svolto in collaborazione con la scuola superiore della magistratura e sul tema della cooperazione giudiziaria e diritti fondamentali. L'esistenza di una pluralità di fonti sovranazionali che si occupano di tutela dei diritti fondamentali tra questi come abbiamo detto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ma anche la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che quindi oggi investono i giudici degli stati membri dell'Unione europea di un compito complesso e delicato. I giudici infatti sia del diritto dell'Unione europea che è della CEDU sono chiamati a verificare la compatibilità della norma nazionale rispetto appunto alle norme sovranazionali.